Cercasi i giovani medici da reclutare per gli ospedali periferici e delle isole. Sono stati infatti pubblicati in gazzetta i bandi di concorso. Sono online sul sito di Estar, ente di supporto tecnico della regione toscana. 18 in tutti i posti, distribuiti nelle tre aziende sanitarie con incentivi economici, percorsi di professionalizzazione, mirate di carriera per chi sceglierà di lavorare fuori dai grandi centri urbani. Un bando unico a livello nazionale per provare a risolvere il problema delle zone carenti. Ci sarà dunque tempo sino al 20 giugno per inoltrare la domanda e partecipare al concorso. Sette i posti disponibili nell'asla toscana sud-est. Si cercano un medico di medicina interna per lo stabilimento del casentino degli ospedali riuniti del retino, un nefrologo, un ortopedico da assegnare all'ospedale di Notto alla Montepulciano, un medico per l'organizzazione dei servizi sanitari nelle zone delle colline dell'Albegna ed un altro per la zona distretto del Casentino, Valtiberina e Valdichiana-Retina, poi uno psichiatra per il Dipartimento di Salute Mentale della zona miata grossetana e colline metallifere ed infine un radiologo per lo stabilimento di massa marittima del presidio ospedaliero unico grossetano.